Preoccupa la situazione contagi nel comune di Castellabate ed ieri sera infatti il report di 21 nuovi cittadini positivi al virus comunicato dal sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Purtroppo le notizie che ho il dovere di comunicarvi fotografano una situazione molto complessa, dichiara la Maiuri. Qualche giorno fa ero quasi certa che con la guareggione della stragrande maggioranza dei nostri concittadini avremmo potuto trascorrere un Natale più sereno ed invece il trend dei casi di positività è in questi giorni aumentato notevolmente. L'Asle infatti mi ha comunicato che 21 nostri concittadini sono risultati positivi ed è per questo che ad ulteriore tutela dell'intera comunità abbiamo effettuato uno screening con test rapido antigenico. Su 184 persone soltanto 7 risultano positive. Ci tengo a sottolineare che la localizzazione del contagio non può e non deve assolutamente alimentare la fantasia collettiva e l'ancora più ignobile calunnia. Capisco che un numero crescente di contagi possa determinare uno stato di preoccupazione ma non è la caccia all'untore la risposta. Voglio ribadire che affrontiamo ancora un nemico invisibile al quale siamo tutti inconsapevolmente esposti. Voglio che venga posto un freno alle inutili chiacchiere rassicurandovi che stiamo operando costantemente insieme alle autorità preposte al fine di contenere quanto più possibile la diffusione del contagio. Auguro a tutte le persone positive una pronta guarigione. Da oggi vi ricordo che saremo in zona rossa e qualsiasi spostamento non necessario va assolutamente evitato. Comprendo il desiderio di condividere questi momenti di festa con i propri cari ma vi invito fortemente ad evitare qualsiasi occasione di incontro o visita che possa determinare situazioni a rischio. Ognuno di noi inconsapevolmente può essere veicolo di contagio per gli altri, non dimentichiamolo mai. Attualmente nel comune di Castellabate ci sono 34 cittadini positivi e 44 persone guarite. Inoltre il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri ci tiene a comunicare l'esito dei 184 test rapidi antigenici effettuati nella giornata di ieri alla frazione Alano e specifica che soltanto i 7 cittadini risultati positivi sono stati contattati per cui tutti gli altri che sono risultati negativi non riceveranno alcuna comunicazione. Voglio precisare inoltre, conclude la Maiuri, che la negatività a tale test non dà alcuna patente di immunità per cui rinnovo l'invito al ferreo e scrupoloso rispetto di tutte le regole.